Grazie per questa opportunità, pastore, per me è un grande onore poter condividere la parola di Dio in questo giorno così particolare. Infatti oggi è il giorno di Natale, un giorno che è sicuramente molto amato dei bambini in tutto il mondo, perché i bambini sanno che quando arriverà la notte tra il 24 e il 25, se saranno stati bravi potranno ricevere il loro dono che hanno chiesto con una letterina questa figura fantastica di Babbo Natale, così i giorni si susseguono, i bambini cercano di essere bravi, i più bravi possibili, vengono addirittura controllati, amorevolmente minacciati in questo senso, ti sei comportato bene perché altrimenti niente regali, arriva il carbone, e quindi i bambini si impegnano, danno il meglio di sé affinché possano fiondarsi in quella notte che hanno aspettato da un anno sotto quell'albero per prendere il loro dono meritato dal loro comportamento, casualmente un dono che equivale sempre alle taschie dei genitori e questo per molti è il Natale, semplicemente un'opportunità per scambiarsi dei doni, per cenare insieme, ma per noi non è così, per noi Natale è esattamente quello che il suo nome dice di essere, ovvero nascita, Natale significa nascita, per noi è Natale ogni qual volta invitiamo Cristo Gesù a nascere nella nostra vita, ma il senso è completamente diverso, per noi non è una volta l'anno e ogni giorno poter festeggiare quello che è Cristo ha fatto per noi, infatti il Natale inizia quello che a Pasqua trova il suo compimento e Cristo non ha donato se stesso solamente per i meritevoli, anzi ha donato se stesso attraverso la sua grazia proprio per l'umanità che non meritava nulla, nulla a che vedere con i nostri metri, dice la scrittura la salvezza in Cristo Gesù è per grazia, nessuno può averne gloria e noi non ci fiondiamo sotto un albero il 25 dicembre ma noi andiamo ai piedi del legno della croce, dove possiamo accedere al trono della sua grazia senza problemi, senza paura, possiamo accostarci con piena fiducia proprio, proprio perché siamo umanamente immeritevoli affinché Cristo gratuitamente possa donarci il meglio di sé, possa donarci il dono più grande che si possa mai immaginare che è il dono della salvezza, del perdono dei peccati, quel sacrificio completo che Cristo ha manifestato sulla croce, quindi il Natale è proprio questo, noi abbiamo un'opportunità oggi di poter divulgare ulteriormente questo, se dovessi definire cosa è in realtà, qual è il messaggio dietro la nascita di Gesù potremmo dire che il Natale, la nascita di Gesù è esattamente la storia di una promessa. Sì, nella nascita di Gesù si adempie una promessa, promessa che nasce in Genesi al capitolo 3, al verso 15 che possiamo leggere insieme, in Genesi c'è la prima profezia sulla nascita di Gesù, sul Natale, ed è scritto ed io porrò in inicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei, esso ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il calcagno. Questa è la prima profezia sulla nascita di Gesù, l'uomo aveva peccato, aveva ceduto l'autorità, sappiamo a quello che poi divenne il principe di questo mondo, il diavolo, il serpente antico, ma Gesù a Dio subito ci tiene a rassicurare l'umanità e dice io oggi profetizzo sull'umanità, non preoccuparti perché certamente da seme di donna arriverà il Salvatore, noi sappiamo che nel concepimento non è la donna che mette il seme, ma è l'uomo e questo ci parla profeticamente della nascita soprannaturale di Gesù e Dio dice è vero, tu gli ferirai il calcagno e questo è la croce, non alla donna ma al seme della donna, quindi a Cristo Gesù, ma anche se tu gli ferirai il calcagno, ovvero lo farai soffrire sulla croce, lui alla fine ti schiaccerà il capo, amen? Quindi il Natale non è altro che il ricordo della promessa di vittoria che Dio ha fatto all'umanità sin dalla fondazione dei tempi, subito dopo che l'uomo fallì, con il quale vuole rassicurarci che Cristo ha tutta l'autorità di calpestare ogni tuo nemico e di darti la vittoria su ogni circostanza che in questo momento minaccia la tua vita ed è una promessa meravigliosa. Noi ricordiamo che quando il Salvatore è nato la vittoria sboccia nel nostro cuore e tu questa sarai la possibilità di far nascere Gesù nel tuo cuore invitandolo ad abitare dentro di te e in questa promessa, miei cari, c'è sicuramente la promessa di un viaggio. La vita di Gesù subito dopo la nascita è la vita di un viaggiatore, è la vita di una piccola creatura con la sua famiglia che dovette girare molto, infatti in Matteo 2 al verso 13, leggiamolo insieme, guardate come comincia possiamo dire la vita di Gesù con un'altra profezia, avvertimento, ed è scritto così, or dopo che furono partiti, quindi inizia il viaggio, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Rimani là finché io non ti avvertirò perché Erode cercherà il bambino per farlo morire. Il Natale, la nascita di Gesù ci promette un viaggio, Cristo vuole portare la tua vita dall'Egitto, che rappresenta, lo vedremo più avanti, il dominio di questo mondo, del faraone, delle opere delle tenebre, del sistema corrotto di questo mondo, vuole prenderti dall'Egitto e ti vuole riportare al centro del proposito di Dio, mettendo ordine alla tua vita. Sapete, l'ultima parte dell'anno è un tempo profetico, è un tempo nel quale tu puoi chiedere al Signore di ispirarti, propositi, santi, per il prossimo anno. Sì, perché Erode vorrà far morire la rivelazione del Natale dentro di te. C'è lo spirito di Erode che vuole distruggere la santità, la potenza racchiusa in questa nascita. Erode per beccare Gesù, per uccidere Gesù, sterminò tutti i bambini e così vuole fare nella nostra vita, vuole uccidere questa rivelazione, le vuole dare un vestitino religioso, le vuole dare un vestitino tradizionale, ma non è nulla di tutto questo. La nascita di Gesù, la vita di Gesù è potenza, la potenza che può riportare la tua vita al centro della sua volontà, un luogo spirituale, una condizione dell'anima, della mente, dello spirito, nella quale tu puoi star certo che anche se il mondo, la malattia, l'ansia, la società, l'economia minaccia la tua vita, minaccia la tua stabilità, su di te non si poserà perché c'è la mano di Dio che ti protegge, questo devi crederlo fortemente. In questo viaggio noi vediamo tutto l'amore di Dio, ricordate quel verso in Luca che dice che il Salvatore è nato per cercare e salvare coloro che si erano persi, perché delle volte noi ci perdiamo, ci perdiamo nei meandri della vita, ci perdiamo a causa di decisioni errate, ci perdiamo a causa di delusioni, ci perdiamo perché delle volte quel fuoco di passione per le cose di Dio viene un pochettino offuscato, viene spento, viene affievolito dalle circostanze avverse, dalle persone maldestre che hanno calpestato forse parti della nostra sensibilità, ma lui è venuto a cercare, tu non cerchi qualcosa a cui non tieni, se tu perdessi le chiavi di casa cosa faresti? Le cercheresti disperato fino a quando non le trovi, perché? Perché ci tieni così con le chiavi della macchina, col portafoglio, tu vali molto di più di un mazzo di chiavi di casa, di un mazzo di chiavi della macchina, tu vali la cosa più preziosa che esiste sulla terra, che è il sangue prezioso di Gesù. Infatti, miei cari, dobbiamo ricordare una cosa, se la salvezza non è costata nulla a noi, è costato tutto il sangue di Gesù, è preziosa e tu vali quel sangue meraviglioso, lui ti cerca, ti sta cercando, ti sta cercando oggi, ti cercherà domani, perché noi non lo ricordiamo una volta l'anno il 25 dicembre, noi ricordiamo ogni giorno quell'amore sacrificale così grande che ogni giorno cerca la nostra vita, cerca il nostro cuore per riempirlo di speranza, per riempirlo di gioia, per proteggerlo dagli attacchi di Erode. Sì, nel Natale ricordiamo la promessa di un viaggio, lui ci porterà dal regno delle tenebre, da una nube di oppressione, di incertezza sul futuro, di paura sul futuro, sull'anno che verrà, ad una rivelazione che lui sarà con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, per tirarci fuori dallo spito di Erode. Erode non toccò Gesù, lo spito di questo mondo non toccherà la tua vita e in Cristo c'è consolazione, c'è possibilità di una nuova vita, c'è la possibilità di ricevere quella pace perfetta che il mondo non può conoscere. Amen? Se sei sui social scrivi Amen. E in questo viaggio Gesù vuole prendersi cura di tutto il tragitto della nostra vita e vuole iniziare viaggiando indietro nel tempo, vuole risolvere i dolori del nostro passato, vuole risolvere il nostro passato. Leggiamo insieme Matteo 8, verso 21. In Matteo 8, 21 vediamo come Gesù si muove nella nostra vita, come per Gesù è importante tutto quello che noi siamo. Poi un altro dei suoi discepoli disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù disse seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Gesù qui sembra duro ma in realtà non è così. Nel linguaggio dell'epoca quel ragazzo stava chiedendo semplicemente di prendere l'eredità del padre e di portarla come garanzia nel viaggio che avrebbe fatto con Gesù, ma Gesù non ha bisogno delle nostre certezze e non è preoccupato delle nostre incertezze. Gesù dice con me la vita è nuova. Io oggi ti dico seguimi, lascia la tua vecchia vita, lascia le tue paure, abbi il coraggio di credere in me, seguimi, non portare le tue sicurezze umane perché hai paura di quello che sarà. Se tu seguirai me le cose vecchie saranno passate, tutto diventerà nuovo e questa è la promessa per coloro che sono in Cristo. Dillo ad alta voce questa sera io sono in Cristo, le cose vecchie sono passate, tutto oggi. Se invito Gesù nella mia vita, se credo in questa rivelazione, può diventare nuovo. L'anno che verrà può essere un nuovo anno. Non calcolare l'anno che verrà in base a ciò che hai accumulato oggi nel bagaglio della tua vita. Cristo ha tutta la potenza di trasformarti da pescatore di pesci, tra l'altro fallimentare un po' come Pietro, a pescatore di uomini, cioè a colui che ha un proposito eterno. Dio ha la potenza di trasformare la tua vita. Nel ricordo della nascita di Gesù c'è il ricordo, la certezza che se noi seguiremo la sua vita, seguiremo il suo proposito, lui ci condurrà ad un nuovo livello di gioia, di pace e di speranza perché questo è il regno di Dio, ciò che è giusto, la sua gioia e la sua pace. Questo è quello che lui vuole fare per mezzo dello Spirito Santo. E in questo viaggio che parte, che affonda le radici nel nostro passato doloroso o incerto, o forse fallimentare, Gesù vuole andare oltre, vuole togliere l'ansia, vuole mettere pace. Quando Gesù nasce nella tua vita veramente te ne rendi conto perché hai una pace soprannaturale, che non dipende dalle circostanze, come è scritto nella sua parola, che sorpassa ogni ragionamento. Cioè se io ci dovessi ragionare su dovrei essere preoccupato e invece ho pace nel cuore perché la mia pace non dipende da ciò che è fuori da me, i problemi, le cose che non ho, ma da chi è dentro di me. Cristo è nato nel mio cuore e io non ho più paura. Amen? E voglio leggere con voi un verso in Matteo 9, 9. In questo verso vediamo come Gesù si comportò con un discepolo. Poi Gesù passando oltre vide un uomo che sedeva al banco delle imposte chiamato Matteo e gli disse seguimi ed egli alzatosi lo seguì. Noi leggiamo questo verso con semplicità. Un uomo era seduto in banca, questo è l'equivalente al banco delle imposte. Arriva uno sconosciuto che neanche si presenta, dice seguimi e quello lo segue. È una cosa miracolosa. Ma cosa stava vivendo esattamente Matteo? Cosa lesse negli occhi di Gesù con quel seguimi? Il banco delle imposte per quest'uomo, per questo ragazzo, era un luogo di forte stress. Infatti un ebreo raccoglieva le imposte in favore dei romani dal suo popolo stesso e per gli ebrei, per i suoi confratelli, veniva chiamato Cane. Ricordate quello detto Fuori i cani e gli idolati? Ecco, i cani erano per gli ebrei venduti al popolo dominatore romano che rubavano le imposte per loro non dovute. Quindi immaginate lo stress di questo ragazzo. Già era odiato dal suo stesso villaggio, dal suo stesso popolo. In più, se per caso i romani a fine giornata avessero notato una mancanza nelle sue note, l'avrebbero ucciso, tacciato di essere un ladro. Quindi questo era sottoposto ad uno stress incredibile. Noi molte volte siamo così, viviamo vite stressanti, siamo costretti a dei ritmi incredibili per cercare di vivere, di sopravvivere. La nostra vita non è altro che un tentativo di arrivare alla fine della giornata o alla fine del mese caricati di stress, forse senza neanche un adeguato ringraziamento, senza nessuna gratitudine dal tuo datore di lavoro o dai tuoi figli che tu servi amorevolmente come madre, come padre. Non c'è gratitudine. E questo ti fa entrare nella routine che spegne la tua passione, che spegne le tue ambizioni per il futuro e ti convinci come Matteo che se arriverai a domani è un altro miracolo. Ma Gesù interviene proprio lì e dice io voglio intervenire ora nella tua vita. E voglio tirarti fuori da questo stress, voglio tirarti fuori da questa bolla che ti fa credere che la vita è alzarsi, lavorare, mangiare, bere, come si dice a Palermo, casa e putia. Cioè casa e lavoro, casa, lavoro, casa, lavoro, senza nessuna gioia. Non è così. Gesù dice se tu rimani accanto a me, se tu segui me, io darò alla tua vita un altro senso. Tu non sei nato per vivere nella noia, nella routine, c'è per te qualcosa di più grande. Voglio farti vivere un'avventura meravigliosa che si chiama cristianesimo, discepolato, dove vedrai Matteo che c'è molto di più di quello che tu immagini. Voglio dirti questo a te che stai guardando, c'è molto di più che Dio vuole fare con te, c'è molto di più che Lui ha messo in te, ci sono doni, ci sono talenti meravigliosi, molto molto di più. Dillo a voce alta in questo momento, c'è molto di più che Dio vuole fare attraverso di me. Io valgo molto di più di quello che sto vivendo. Ma delle volte, miei cari, anche se siamo a fianco a Gesù, lo bendiamo, lo imbavagliamo, lo leghiamo. Sì, noi bendiamo Gesù quando guardiamo la vita con gli occhi naturali, guardiamo le circostanze, le previsioni, nel nostro caso magari pandemiche, le previsioni economiche della nostra casa, del nostro lavoro, le previsioni di salute. E noi invece di, piuttosto che guardare queste circostanze con gli occhi di Cristo, le guardiamo con gli occhi naturali e quindi ci deprimiamo. Abbiamo insonnia, incubi, attacchi di panico, gastrite nervose. Perché? Perché quello che io vedo è quello che io credo. E quindi noi bendiamo gli occhi di Cristo, che invece guardando quella folla disperata che non aveva cibo, non aveva nulla, lui disse ok, portatemi quello che avete. E per i discepoli quei pochi panni e quei pochi pesci erano insufficienti, glielo dissero, maestro, ma cosa vedi qui di miracoloso? Come potremmo mai sfamare circa 15.000 persone con pochi panni e pochi pesci? Ma con gli occhi di Cristo il miracolo era lì. E disse portatemeli qui. E lui alzò quei panni e quei pesci e questi moltiplicarono e sfamarono la folla e ne rimassero 12 ceste piene. Apri gli occhi della fede. Guarda la tua vita attraverso le promesse di Cristo, perché in Cristo non c'è disperazione. Certamente ci saranno momenti difficili, come diceva prima il pastore, ma con gli occhi di Cristo c'è sempre la speranza. E anche se ti trovassi nella mezzanotte, nel periodo più buio della tua vita, ricorda una cosa. La mezzanotte è solamente l'istante prima di una nuova, di un nuovo giorno, di una nuova alba che può sorgere nel tuo cuore. E noi delle volte oltre a bendare Cristo lo imbavagliamo, quando non parliamo la scrittura davanti la montagna che minaccia la nostra stabilità. E iniziamo a parlare come parlano le persone senza fede. Ah, sicuramente non ce la farò. La mia vita non cambierà mai. I mai, i sempre, i tutti, i nessuno, sono veleno per la nostra fede. Tu devi parlare il linguaggio di Cristo. Noi rispondiamo con la parola. Quando il diavolo minacciò Gesù, disegnandogli un futuro di morte nel deserto, lui rispose dicendo sta scritto. Il diavolo non fuggirà per le tue argomentazioni o per la tua intelligenza, ma fuggirà quando davanti alla montagna tu parlerai la sua parola. Nel Natale noi ricordiamo che Cristo schiaccerà il capo, ha schiacciato il capo del nemico. E dice la scrittura di alla montagna, parla alla montagna, parla con fede alla montagna e questa si sposterà. E noi possiamo anche incatenare, legare Gesù quando la pigrizia o l'egocentrismo, l'egoismo scandiscono il tempo delle nostre giornate. Quando noi ci chiudiamo, ma tanto io ho bisogno, non posso occuparmi degli altri, prima vengo io, prima devo realizzare me stesso, prima devo pensare a me, non vedi che problemi ho? E noi rendiamo Dio piccolo, perché la scrittura ci insegna una cosa, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose che ti mancano, che non hai, ti saranno comunque sopraggiunte. Nel Natale noi ricordiamo l'altruismo di questo Gesù, Dio, che poteva restare in cielo e ha detto no, io andrò, andrò sulla terra, mi sacrificherò perché io voglio amare questo mondo che non mi merita. E noi, umilmente, dobbiamo copiare, imitare l'atteggiamento di Gesù. Non lo bendiamo guardando la vita con gli occhi di questo mondo, non imbavagliamo la nostra bocca cessando le parole di fede, parlando in modo razionale e pessimistico, e non leghiamo le mani di Gesù attraverso una vita egoista incentrata su noi stessi. Le tue mani possono benedire altri, le tue mani possono fare grandi cose. Vi ricordate cosa accadeva quando Gesù usava le sue mani? Se toccava gli infermi, questi guarivano. Se toccava i panni e i pesci, questi moltiplicavano. Se li stendeva verso il vento minaccioso e le onde, la tempesta cessava. Se toccava i bambini, li consolava. Le sue mani adesso sono le nostre mani, che decidono di mettersi a disposizione del prossimo, parlando del messaggio di Gesù. Amen? Quindi questo è il viaggio che Gesù ci fa fare, ristora il nostro passato, ci rassicura dalle nostre ansie, come Matteo viveva ansioso nel banco delle imposte, e poi ci ricorda che Cristo è tutto. E ce lo ricorda quando in Marco 10-21 Gesù dice qualcosa di meraviglioso, ci ricorda che noi dobbiamo farci un tesoro nel cielo. È lì che è il nostro tesoro, una cosa ti manca. Ricorda che il tuo tesoro è nel cielo. E voglio leggervi un verso, leggiamolo insieme, in Luca 2-11, che ce lo spiega in maniera più chiara, ci ricorda quel meraviglioso giorno, anzi notte. Poiché oggi, quando? Oggi, nella città di Davide è nato per voi, per noi, un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Fermiamoci un attimo qua. Gli angeli devono comunicare quale sarebbe stato il segno visibile all'umanità, che il Salvatore, il Messia, che Dio in terra era arrivato. E umanamente, se fossimo stati noi a posto di Dio, avremmo scelto un segno importante. Immagino già Giuseppe e Maria che parlavano dopo l'annunciazione fatta a Maria. Wow, da noi nascerà il Messia, Dio in terra e sicuramente lo farà nascere in un castello meraviglioso, con la servitù. Angeli scenderanno e ci serviranno e il cielo si aprirà su di noi, perché si deve capire che è nato il Messia, dobbiamo dare un segnale forte, dobbiamo fare una buona campagna di marketing, si deve capire che Dio è qui, che Dio è sulla terra e quindi gli angeli dicono questo vi servirà di segno. Ma guardate qual è il segno. Voi troverete un bambino fasciato, coricato in una mangiatoia. Signore, forse c'è un errore, ma che segno è? Segno significa qualcosa che testimonia la verità. Ma che segno è? La mangiatoia, non vorrei essere pesante, ma giusto per capirci, la mangiatoia è il contenitore dove mangiavano gli animali, potremmo paragonarla, perdonatemi ma è per farci capire il concetto, la ciotola del nostro cane. Ma com'è possibile? Ma che segno è? Signore, tu devi scioccare l'umanità, ma perché fai nascere Gesù, il Signore, il Messia in una mangiatoia? Che segno è della tua divinità, della tua potenza? E noi delle volte, miei cari, perdiamo la passione per le cose di Dio per questo motivo, perché noi ci facciamo i nostri progetti, i nostri film, ma se fosse stata la volontà di Dio questo problema non l'avrei avuto, ah se Dio fosse coinvolto quel problema non l'avrei passato. E quindi noi vediamo la mangiatoia che rappresenta la condizione necessaria per comprendere la potenza di Gesù e fuggiamo dalla mangiatoia, scappiamo, non ci piace la mangiatoia, non ci piace dove stare lì, in quel posto maleodorante, nell'immaginario con il bue e l'asinello, dentro quella stalla, quel posto umile. Noi vogliamo il castello, noi vogliamo la prosperità subito, noi vogliamo che Dio dimostri quanto siamo prosperi e che abbiamo la macchina nuova, perché abbiamo tanti soldi, non ci piace soffrire. Ma la mangiatoia è necessaria. E sapete, Cristo è tutto, proprio quando razionalmente non abbiamo nulla. È lì che veramente Cristo è tutto, quando non avendo ancora quello che il tuo cuore desidera, che lecitamente, giustamente desideri, tu rimani lì, perseveri. E Maria perseverò, sapete, non sappiamo Giuseppe in quel momento perché non comparirà, però Maria restò lì. Forse qualcuno si scandalizzò, no, non può essere questo Dio, Dio non può riposare in una mangiatoia, se fosse stato Dio veramente sarebbe in un meraviglioso castello, no, non può essere. Ma dobbiamo rimanere lì. Se sei in un momento di mangiatoia, di difficoltà, rimani lì, non fuggire, perché è lì che vedrai il miracolo. Infatti guardate che cosa accade qualche istante dopo. Matteo 2, verso 10. In Matteo 2, 10 leggiamo così. Quando essi videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia, ognuno dica grandissima gioia, ed entrati nella casa trovarono il bambino con Maria, sua madre, e prostrati si lo adorarono. Poi, aperti i loro tesori, gli offrirono oro, incenso e mirra in dono. Guardate che cosa accade. Qualche istante prima forse qualcuno si era scandalizzato che Dio fosse nato in un contesto di povertà, di umiltà estrema. Eppure se persevererai, tenterai bussare alla porta del tuo cuore, alla porta della tua area finanziaria, alla porta del tuo corpo che ha bisogno di guarigione. Sentirai toc toc e vedrai entrare carovane, come dice la scrittura, tant'è che il villaggio uscì per il rumore, cariche di oro, incenso e mirra. Questo è quello che hanno ricevuto quella povera famiglia, perché è rimasta legata, ferma alla mangiatoia, credendo che la difficoltà è per un tempo. Dice la scrittura, non ho mai visto il giusto restare nel bisogno. Passare il bisogno sì, ma restarci per sempre no, non scandalizzarti della mangiatoia, rimani fermo, Cristo opererà. Infatti guardate, improvvisamente quella famiglia povera riceve oro. Oro cosa rappresenta? L'oro rappresenta la fede. Perché? Perché una piccola pepita può acquistare grandi cose, esattamente come quel verso che sicuramente vi ricordate, basta fede quanto un granel di senape per spostare una montagna. L'oro rappresenta la fede. Quando tu guardi che Dio si è fatto uomo per salvare la tua vita, nasce fede in te, perché colui che non ha risparmiato suo figlio donandolo sulla terra a morire, come non ci donerà tutte le altre cose con egli? E questo è quello che dobbiamo credere. Ti basta una piccola fede. Signore, io non ho capito ancora tutto della mia vita. Non so cosa vuoi fare ancora al cento per cento, ma io so una cosa, che tu non menti, che tu sei fedele, che tu cambierai e trasformerai la mia vita. Non ho una grande fede, ma posso credere, voglio credere, che se te la mia vita è al centro del tuo proposito. Fede è piccola, come una piccola pepita per spostare le montagne, per acquistare, per ricevere in dono anzi, attraverso la grazia di Dio grandi ricchezze che mai umanamente l'uomo potrebbe darti. Ma le grandi ricchezze non sono le Mercedes e le Ferrari. La grande ricchezza forse è la pace in famiglia, lo sento per qualcuno. Dio vuole unire le famiglie separate. Forse la grande ricchezza è vedere quella condizione semplice cambiare, avere semplicemente serenità pensando al futuro, perché hai il giusto per vivere un po' di più per benedire gli altri. Basta fede come una piccola pepita per ricevere grandi cose da Dio. E poi abbiamo ricevuto l'incenso. L'incenso rappresenta la gioia, perché si accendeva l'incenso nel Tempio, quando ci si aspettava che nel luogo santissimo Dio sarebbe apparso con la sua luce, avrebbe perdonato i peccati. Incenso nella scrittura è gioia, lo leggete voi in Romani 15-13, dice che la speranza ci riempie di gioia quando noi ci accostiamo a Dio. Sì, questo è quello che Dio ti dona, ti dona la preghiera, è come un profumo che cambia l'atmosfera attorno a te. Forse per adesso senti il puzzo della difficoltà, del bisogno, dell'instabilità. Forse tu sei tra quei commercianti che hai dovuto chiudere, non potrà monetizzare per le feste, o sei fra quelle persone che sono in difficoltà, attorno a te c'è cattivo odore di sconfitta, cattivo odore di separazione, cattivo odore di solitudine. Ma quando tu preghi il tuo Signore, ricordando che Lui è nato per completare sulla croce un'opera perfetta, vede che l'atmosfera attorno a te cambierà e sentirà il profumo della grazia, il profumo della sua presenza, che avrà quella capacità di mettere la pace che il mondo non ti può dare. Vi ricordate quel verso? Io vi do la mia pace, una pace che il mondo non può darvi, perché la mia pace scende dal cielo. Amen? E poi ci ha dato anche la mirra. Ma voglio leggervi un verso sulla mirra in Luca 23,55. Luca 23,55 dice, le donne che hanno venute con Gesù dalla Galilea, seguendolo da vicino, osservarono il sepolcro e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi esse tornarono a casa e prepararono gli aromi e gli unguenti e durante il sabato si riposarono secondo il comandamento. La mirra era fra quegli unguenti. Le donne vedendo Gesù morto sulla croce e poi sceso dalla croce e vedendolo arrivare dentro il sepolcro preparavano la mirra per imbalzamarlo. E se la mirra fosse stata veramente necessaria per l'imbalzamazione sarebbe significato che la nascita di Gesù non ha nessuna potenza, perché era morto, non era risolto, avrebbe negato la potenza della grazia. Ma la mirra non toccò mai il corpo di Cristo, perché Cristo il terzo giorno è resuscitato e ha vinto la morte. La mirra non toccherà la tua vita, perché quando il sepolcro è stato trovato vuoto il terzo giorno, grande gioia e giubilo c'è stato per i discepoli di Gesù, perché allora significava che tutte le promesse in Cristo Gesù hanno il sì, hanno l'amen, perché lui è fedele, non mente. Se lui ha promesso che ti aiuterà, lui ti aiuterà. C'è salvezza, c'è speranza, c'è guarigione, c'è ristoro, c'è gioia alla sua presenza, il sepolcro è vuoto e se lui ha vinto la morte, ha vinto ogni altro pericolo e minaccia che fa paura alla tua vita. Si dice umanamente che soltanto alla morte non c'è soluzione, no? E invece no, in Cristo anche la morte è stata sconfitta, la mirra non toccherà la tua vita, userai l'oro che rappresenta la fede, userai l'incenso che rappresenta la preghiera, ma la mirra mai toccherà il tuo corpo, perché nella resurrezione di Cristo c'è la tua redenzione e le sue promesse. Puoi dire un fortamen, puoi gioire di questo, il Cristo ha vinto la morte e noi abbiamo la vita eterna in Cristo Gesù e vivremo grandi giorni alla sua presenza, sì con delle difficoltà, sì con delle prove. Forse alle volte avremo pure paura, ma dopo la paura arriverà la sua potenza straordinaria del cielo, perché Cristo ha vinto la morte e ha accettato il capo del diavolo nel nome di Gesù, amen? E io voglio così arrivare alla conclusione, perché in questo viaggio che è il Natale, come vi ho detto all'inizio, noi vediamo che Gesù attraversò tre tappe, che vorrei che tu possa ricordare così semplicemente. La prima tappa è stata a Betlemme, dove Gesù nacque. Sapete, nella perfezione della scrittura, Betlemme letteralmente significa la città del pane e casualmente, tra virgolette, nella città del pane nacque colui che disse di se stesso, io sono il pane disceso dal cielo. Sì, perché il viaggio con Gesù deve cominciare dalla sua parola, dobbiamo cibarci della sua parola, prendere forza nella sua parola, nutrirci della sua parola, che moltiplicherà nella nostra vita e ci darà l'energia necessaria per affrontare le difficoltà. Quando arriverà la previsione che ti preoccupa? Quando arriverà il momento doloroso? Tu usa la parola di Dio. E poi, dopo Betlemme, c'è stato l'Egitto. Gesù dovette andare in Egitto. L'Egitto rappresenta quello che non ci piace, quel momento dove noi non parliamo la stessa lingua, forse dove passano momenti che non rappresentano esattamente quello che tu vorresti vivere. Ma l'Egitto è per un tempo, nell'Egitto crescerai, nell'Egitto tu formerai il tuo carattere, perché vedrai che Dio ti tirerà fuori da quella condizione. Se sei in Egitto, non temere, presto uscirai. Ed infine, l'ultima tappa, e poi preghiamo su questo brevemente, è Nazareth. Gesù si stabilì a Nazareth ed è scritto che lui a Nazareth andava in giro, facendo del bene, ristorando le persone. Nazareth significa letteralmente germoglio. Cristo farà germogliare una nuova vita, nuove promesse in te. Allora lascia l'Egitto, fidati che ti porterà a Nazareth e che la tua vita cambierà, perché lui è nato per adempiere le sue promesse in te, per salvare la tua vita. Amen? Allora voglio pregare, prima di concludere, per tutti noi, leggendo Atti 10, 37, che dice così. Voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, comincendo dalla Galilea dopo il battesimo che Giovanni predicò, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene, sanando tutti coloro oppressi dal diavolo. Oggi il Signore ti vuole portare a Nazareth per farti del bene e per togliere l'oppressione dal tuo cuore. Allora preghiamo e ci salutiamo pregando. Sì, Signore, noi oggi vogliamo ricordare che tu sei nato, sei venuto sulla terra per cambiare la nostra vita, per benedirci, per togliere l'oppressione del nemico. Io ti prego per i miei cari, Signore, che tu possa questa sera rivelarti con forza, operando in ognuno di noi, pregando di cura dei nostri pesi, delle nostre difficoltà, delle nostre ansie, perché tu sei di Dio fedele e potente. Noi oggi vogliamo non soltanto ricordare che tu sei nato, ma vogliamo invitarti nella nostra vita, coinvolgendoti in ogni area della nostra vita, pregando che tu sei potente di trasformarla e per questo ti ringraziamo, perché sei il dono più grande che potessimo desiderare e ti saremo grati per sempre. Lo diremo a tutti quanti che tu sei nato in noi per darci un nuovo proposito, nel tuo nome meraviglioso, il nome di Gesù. Amen e Amen.